Esplosivo pronto C'è l'occhio del male che ricopre La squadra d'attacco ha trovato una bomba Preparare le difese Mancano 10 secondi Restano 5 secondi Scudo Volkan pronto Bomba localizzata Occhio del male piazzato Occhio del male piazzato Occhio del male piazzato Occhio del male piazzato I like this crazy One in shot main stairs Main stairs in shot Wow Oh Let me scan incoming Starting to clock Your location has been compromised Sì 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 for eliminate me i neri ho la fanatico MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Sì, sì, sì. Sì, i see that thing Sì, i see that thing Sì, i see that thing I'm not going to get up there I'm going to get up there He's dead Fantastic I'm in danger Oh my god He's dead He's dead He's dead Wuih, I'm in danger Wuih Hehehe 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 Hi, how are you? Hehehe Sean, Sean, Sean What's going on? Hehehe 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 Not good Hehehe 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 Oh my god Oh my god Hehehe 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 Sì 3 ut 1 1 1 2 4 4 4 4 4 5 6 15 16 Oh Sì 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 Grazie per la visione